D Assessate Immagini Immagini Non c'è nessuno Non c'è nessuno Non c'è nessuno Non c'è nessuno C'è nessuno Non faأ Salile, si fai? Ok, ok. Ok, ok. Ok. Non ci spazio? Ok, ok. Non ci spazio. Ok, ok. Ok, ok. ma c'è questa? herocca dai io non so con un sacco sono qualche anni si ci sono dei sott ohno chiusura adesso un sacco anything e abbiamo un bici che è un bici, è un bici che è un bici che è un giovane, è un bici che è un lavoro, un lavoro che è un lavoro, è un lavoro che è un personaggio che non è così, noi erano un bici, un bici è un bici, un bici è un bici molto buono, ma è un bici, la stessa è un bici, ora mi rèmme, il vostro amico, i vostri amici, poi l'anima che vi viene, Inshallah chi può passare? Ok Grazie Grazie ok 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 it's an ok 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 .. .. .. .. .. Sottotitoli 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 Io ti chiede lì? Mi ferì? Beh, beh, t'accomo il mio piaccio. Voi io ti chiede lì? No a 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